Tra i neosindaci eletti alle recentissime elezioni comunali, Mariella Di Nunzio è il nuovo primo cittadino di Santa Maria in Baro. Una vittoria probabilmente, per chi non la conosce, sorprendente vista la concorrenza che c'era in questa tornata elettorale, soprattutto perché la sua precedente amministrazione si era divisa in due liste, quindi la vittoria è doppiamente sorprendente. Ma lei personalmente se l'aspettava, Sindaco? Buongiorno, la nostra speranza era proprio quella, abbiamo corso proprio per vincere perché credevamo nei nostri cittadini e alla Lunca siamo stati premiati per la nostra buona fede, per la nostra lealtà e il fatto di aver lavorato sempre seriamente, anche durante la campagna elettorale, abbiamo puntato soprattutto sulla serietà e sull'umiltà, quindi la nostra richiesta non era quella del voto, ma semplicemente di dare delle spiegazioni su questo programma e di chiedere la loro fiducia, ci siamo rimessi solo a questo e ovviamente al risultato avvenuto non posso fare altro che ringraziarli per l'estrema fiducia che ci ha concesso e adesso inizia per noi il difficile, che è quello di non deludeli assolutamente e di dare il massimo per il nostro paese, per i nostri cittadini. Di che cosa ha bisogno secondo lei Santa Maria Inbaro per ripartire? Ha bisogno soprattutto di trasparenza e di maggior partecipazione da parte dei cittadini, quindi le decisioni dovranno essere prese sì dal nuovo Consiglio Comunale, ma sempre condivise con i nostri cittadini e dare più informazioni possibili utilizzando diversi strumenti e ovviamente rivedere un po' tutto sotto l'aspetto urbanistico, l'aspetto anche sociale e a livello anche culturale ovviamente, non lasciando da parte la questione scolastica che è un aspetto che mi preme tantissimo visto che abbiamo due ottime strutture scolastiche che dobbiamo adesso ravvivare e fare in modo che ripartino benissimo per il prossimo anno scolastico. Ha già in mente quale sarà la nuova giunta che l'accompagnerà in questo difficile percorso amministrativo? Adesso stiamo lavorando per insediarci, quindi il 5 giugno ci sarà il nostro insediamento e per la nuova giunta stiamo lavorando tutti insieme e decideremo per quella data. Per chiudere ha raccolto un po' qualche testimonianza dei suoi cittadini sull'esito di questa elezione, qual è l'umore in paese? Quello che traspare è sicuramente tanta contentezza, felicità e mi hanno usato tanta vicinanza, tanto affetto che io cercherò di ripagare insieme ai miei amministratori dando il massimo e dando tutta la nostra buona volontà per i nostri cittadini. Non li dureremo assolutamente, anche perché dovrò essere assolutamente il sindaco del fare, della gente e dell'ascolto. La scurto.